salve a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video oggi il corriere mi ha portato questo pacco oggi è il 21 di settembre quindi oggi è l'uscita dell'iphone del nuovo iphone cioè l'iphone 10x in questo caso 10x max sì perché l'anno scorso non avevo preso il 10 perché ho voluto aspettare infatti ho preso l'otto plus perché volevo aspettare che tutte le applicazioni diciamo quello che era il cambiamento di iphone fosse ottimizzato per quel tipo di dispositivo adesso è passato un anno il telefono ha dimostrato di essere un telefono ultra ultra valido e addirittura quest'anno sebbene non sono stati presentati chissà che grossi cambiamenti anzi praticamente niente a livello di novità però è stato ulteriormente migliorato quello che già c'era di buono e in questo caso è stato creato anche una versione max quindi ho preferito prendere la versione max perché diciamo che per volare secondo me con i droni da ancora qualcosa in più nel senso che comunque il display del 10 è già un ottimo display a livello di dimensioni però il 10 max secondo me da usarlo come display per volare con i droni è qualcosa secondo me o meglio dovrebbe essere qualcosa di eccezionale quindi dopo un anno ho preso anch'io il 10 in questo caso 10 max quindi adesso abbandonerò il mio iphone 8 plus per usare questo adesso facciamo un veloce unboxing dopo magari lo proviamo anche a inserire sul radiocomando dell'autelivo e vedere come come sta e magari lo proviamo anche a accendere con l'applicazione dell'autelivo per vedere com'è la resa di questo fantastico telefono quindi adesso unboxing veloce taglierino ecco qua la confezione vado a tagliare il nastro che la tiene ferma quindi scatola via taglierino via e adesso andiamo di veloce unboxing quindi pellicola esterna wow carta via la confezione classica confezione iphone mettiamola qua libretto di istruzioni che non ci interessa ed ecco subito qua il telefono ragazzi le dimensioni a me non sembra un telefono grandissimo a vederlo perché comunque le dimensioni esterne sono sono le stesse dell'iphone 8 plus quindi a livello di misura esterna la dimensione è quella quindi a me averlo in mano mi sembra di non avere niente di esageratamente grande o di ingombrante perché comunque sono abituato con l'iphone 8 plus quindi è solo la sensazione di avere un display molto più grande ma a livello di maneggevolezza ed impugnatura a me non è cambiato praticamente niente per cui ho preferito il 10x max perché comunque ero già abituato a un telefono di una certa dimensione da tenere in mano e vi dicendo quindi non mi sarebbe cambiato molto da quel punto di vista e in più per volare secondo me un display di queste dimensioni cioè tutto display secondo me è tanta roba per usarlo come display andiamo a togliere la pellicola del telefono questa è quella sensazione di togliere la pellicola dell'iphone è veramente fantastica qua troviamo la solita confezione iphone caricatore sempre sfigatissimo cioè quello a bassa velocità anche per stavolta apple in questa cosa veramente si fa un po compatire nel senso che alimentatore lento cuffiette le solite cuffiette che da in dotazione apple che sono ottime diciamo però sono la confezione la solita il cavetto solito cavetto apple e manca in questa versione del 10x manca l'adattatore per collegare qualsiasi tipo di cuffia quindi d'ora in poi se si vuole l'adattatore non lo danno più all'interno della confezione ma adesso è da acquistare a parte se a qualcuno dovesse interessare però vabbè se uno ha le sue cuffiette o le airpod non ha nessun problema se no si compra un adattatore il colore quello argento che poi vabbè tra bianco ghiaccio quello che è cromato perché era l'unica versione rimasta disponibile il giorno in cui è uscito sì perché il 10x max veramente è andato tra virgolette a ruba quindi non potevo il colore nero non era più disponibile però vabbè mi andava benissimo anche questo era un po' l'oro che non mi sarebbe piaciuto quindi questo colore mi andava più che bene lo stesso quindi ho scelto questo perché altrimenti comunque non sarebbe più stato disponibile era disponibile solo il 10x ma non la versione max di quello di tutti i colori è rimasto disponibile per un bel po' forse lo è disponibile ancora non lo so ma la versione max che poi è la reale novità di quest'anno nel senso che siccome che apple ha portato modifiche a livello di miglioramento tecnico ma non ha portato novità l'unica vera novità è il 10x max quindi un telefono con un full display veramente spettacolare che è questa diciamo la tra virgolette novità di quest'anno quindi adesso lo andiamo ad accendere spostiamo la scatola ecco il display grande così è veramente eccezionale fa quasi impressione è veramente grandissimo seppur il telefono ripeto è grande come l'otto plus però il display è veramente una figata quindi non vedo l'ora di provarlo con il drone un display di questo tipo quindi ragazzi adesso lo configuro e poi ve lo faccio vedere pronto all'azione ok ragazzi ce l'abbiamo fatta ho configurato l'iphone con tutte le impostazioni dal backup di itunes quindi adesso ho il telefono messo nella stessa situazione identica al mio iphone 8 plus adesso li guardiamo un attimo da vicino giusto per capire che vedete le dimensioni sono praticamente identiche adesso ve le faccio vedere in maniera più precisa quindi ci mettiamo in questa postazione e vedete che i due telefoni sono praticamente identici nel senso che le dimensioni sono identiche altezza larghezza praticamente identici solo che questo ha un display che è immenso questa display che si grande ma non per quanto lui realmente è ingombrante quindi due telefoni ottimi in tutti e due casi anche qua comunque un display sebbene in lcd un display esagerato però di qua abbiamo un display oled e a tutto schermo veramente un full display dietro sono molto molto simili cioè il colore praticamente quasi uguale questo tende un pochino di più se vogliamo al questo un po più al bianco questo un po più al grigio le fotocamere ovviamente sono messe diversamente ma non sono così diverse e i bordi che questo ha un bordo in acciaio cromato questo in alluminio satinato quindi i due telefoni iphone 8 plus e iphone 10x max le dimensioni esterne sono identiche quindi ragazzi se avete e siete abituati a un 8 plus acquistate se volete e se siete indecisi perché magari avevate paura che era troppo grande o meno non preoccupatevi la dimensione del 10x max è praticamente identica all'iphone 8 plus adesso accantoniamo un attimo l'iphone 8 e adesso andiamo a provare a installare a installare proviamo a agganciare il nuovo iphone al supporto del hotelivo per vedere come sta e come comunque l'applicazione all'interno di questo fantastico display quindi andiamo a inserire il telefono ok andiamo a sbloccare ovviamente ok sbloccato andiamo aprire l'applicazione autolivo che ovviamente autolivo non è connesso ovviamente quindi usciamo dall'applicazione ok guardate la resa del questo è lo screen diciamo dell'home page se vogliamo delle dell'applicazione autolivo cioè quella dell'autolivo guardate che figata che la resa dell'inquadratura con questo full display del 10x max cioè secondo me per far volare il drone questa questo telefono è la morte sua nel senso che togliamo tutte le solite cose costa tutte le solite cose che sappiamo che che è un prodotto costantissimo che dall'accordo dell'anno scorso è cambiato poco cioè tutte le solite cose però secondo me questa versione max per far volare il drone è veramente veramente spettacolare quindi non vedo l'ora di provarlo fare un volo con l'autolivo con il mavicare per provare questo display in volo una cosa che non mi è piaciuta di questo telefono è il discorso che le applicazioni non si girano nel senso che con l'iphone 8 plus girando il telefono anche l'applicazione ovviamente si mettono in maniera orizzontale qua invece no secondo me in un telefono di queste dimensioni avrebbero potuto integrarlo anche qua non capisco come mai non l'abbiano fatto perché comunque è comodo perché comunque un telefono così ovviamente si usa tantissimo messo in maniera orizzontale e avere le applicazioni che giravano insieme al telefono secondo me era tanta roba nel senso utilissimo non capisco perché qua non sia stato fatto infatti vedete che se io ho il telefono messo così lo vado a girare ma non è cambiato praticamente niente rimangono in maniera verticale quindi questa è una cosa che secondo me apple dovrebbe risolvere nel senso o meglio integrare visto che l'8 plus l'aveva per un motivo non capisco perché qua non sia stato fatto magari c'è un motivo che non conosco non capisco però se si riesce a fare secondo me è una cosa utile per il resto il telefono a prima impressione è veramente eccezionale come fotocamera il passo in avanti è l'hdr che riesce a fare una foto facendone 10 quindi facendo 10 foto con esposizioni diverse e comunque regolazioni diverse alla fine ne tira fuori una che è veramente eccezionale quindi dovrebbe riuscire a fare foto anche contro luce in situazioni abbastanza estreme perché comunque con tutte queste regolazioni che lui va a mettere su 10 foto alla fine riesce a fare la foto tra virgolette ottima per quella situazione per il resto il processore va bene non ve lo sto a dire il più veloce di sempre perché poi quello che permette anche a questa fotocamera di fare questa funzione nel senso che è la prestazione del processore che fa riuscire alla fotocamera a fare questo hdr da 10 foto per il resto la batteria dovrebbe essere un'ora e mezza in più rispetto al 10 dell'anno scorso perché comunque l'8 plus la batteria è una roba eccezionale adesso la confronterò con questo se comunque a livello dell'8 plus o addirittura meglio o peggio perché l'8 plus è veramente la batteria è una cosa da paura l'altra cosa nuova che ha è che è IP68 a livello di impremabilità quindi può stare a 2 metri sott'acqua per mezz'ora quindi si suppone che tipo a 20 centimetri d'acqua cioè o appena si può entrare tranquillamente in piscina e usarlo a bordo piscina o comunque stando nell'acqua senza tenerlo immerso chissà quanto tempo può starci molto tempo nel senso che se sta a 2 metri per mezz'ora se stiamo a 10 centimetri io presumo che possa starci anche tipo 2 ore quindi nella piscina dove si può stare dentro a fare foto via dicendo in cui si può tirar fuori mettere dentro nell'acqua e via dicendo non dovrebbe avere nessunissimo problema quindi ragazzi se questo primo unboxing prime impressioni e prime valutazioni come telefono per volare con i nostri droni vi è piaciuto ragazzi lasciate come al solito un pollice su mi farebbe molto piacere iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e ci vediamo nei prossimi video ciao ciao